Il brano di Vangelo si apre con una domanda posta a Gesù da un tale Signore, sono pochi quelli che si salvano? Una domanda dal valore puramente accademico che in tanti si pongono per pura curiosità ma che rimane priva di qualsiasi coinvolgimento personale. Il Signore per questo rifiuta di entrare nel merito della questione per focalizzare l'attenzione su ciò che è veramente importante. Il vero problema non è il numero di coloro che si salvano ma dove sono io, dov'è il mio cuore, come io mi pongo nei confronti di Dio. In definitiva, che uso faccio della mia libertà? Gesù ci rivolge un invito, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Per comprendere queste parole è necessario ricordare che Egli è la porta. Infatti, dice di se stesso, io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo. Gesù si presenta come una porta stretta perché per accedere alla vita eterna occorre passare dalle strettoie della croce. La croce che il Signore ci chiede di abbracciare non è la negazione della gioia e della propria umanità ma la vera condizione per trovare la vita, per trovare Dio. È la croce della fedeltà al Vangelo, del rifiuto di tutto ciò che disumanizza la persona, della rinuncia al proprio egoismo. Imboccare la strada larga e apparentemente comoda significa invece mettere da parte Dio, ridurlo in mezzo a tutte le cose che urgono nella nostra vita ad un problema secondario. Ritenere noi stessi le esigenze e i desideri del momento come più importante di Lui. La porta larga in definitiva porta alla morte perché ci allontana dal Signore. La porta stretta della croce, al contrario, introduce alla vita immortale dei risorti, ci immette nel cuore di Dio e ci rende capaci di amare. E dove c'è vero amore, lì c'è la felicità. Il Signore invita tutti ad entrare per la porta stretta, ossia offre a tutti il dono della salvezza. Però bisogna stare attenti a non meritare il rimprovero che Sant'Agostino faceva ai Suoi fedeli. Io so che siete molti a udirmi, ma pochi a ubbidirmi. Le richiesti di Gesù, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo, non sono per nulla accomodanti, sono esigenti. Tuttavia, esse rispondono alle attese profonde della nostra esistenza, la quale, lo si voglia o no, è orientata verso Dio, verso una pienezza senza limiti, verso l'infinito. Ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te. Allora la porta, anche se stretta, ci permette di entrare nel mondo di Dio, nel quale regna la pace, l'amore e la gioia, i beni di cui abbiamo bisogno per rendere bella la vita.